Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lovvosa e oggi cercherò di spiegarvi come fare ride Fernon in completa. Innanzitutto bisogna portare nella mappa dei che apre solo dopo aver killato il caligo i pg buff personali e cioè crocio per la tripla e un arcerino per il falco. Quindi questi sono i buff personali che vi occorrono. Se siete bk vi occorre solo il falco. Inoltre dovete portare il maru per la skill che comunque fa ammissare i mob e poi l'opo malato. Ok sta riflettendo. Quando riflette ragazzi non skillate la Fernon. Potete fargli spaccatura perché non fa danno però potete e dovete evitare di fargli altre skill o altre malus come inabilitato perché inabilitato fa danno e quindi vi verrà, vi tornerà indietro come un boomerang e anche peggio perché fa veramente male la riflessione della Fernon. Quindi che altra cosa? Allora gli esploratori e DG portano il Keongbi o Longbi per il fatto di diventare invisibili e poter fare le leve perché ci sono due leve. La leva nera che stunna la Fernon e la leva bianca che recca vita e altre cose che adesso non mi vengono in mente sinceramente. Portatevi anche parecchi full ragazzi perché veramente se ne sprecano una marea. Non potete usarle come a corona non potete usarle anzi a corona non potete proprio usarle le full. Qui nei Fernon sì però tra una e l'altra devono passare alcuni secondi quindi non potete furlare di continuo. Ok ogni fine ride date da mangiare al pet perché il mio soprattutto la fedeltà scende sotto zero dato che comunque è un opo molato a poca difesa crepa in continuazione però è molto 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 utile. Quindi entriamo entriamo col mezzo perché l'opo è molto 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 lento. Perfetto va là ragazzi ci sono entrati tutti i malus del mondo. Adesso il compito è degli esplo di far danni e buttarla giù un 4 e 4 8. Addio dio 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 fare le trappole se riuscite perché quando ve li ritrovate tutti addosso è veramente una cosa assurda allora le res dovete avere 100% fuoco 100% acqua altrimenti scoppiate qua dentro io ci arrivo proprio a me la pena con le miste nello scorso fernon ho trovato praticamente la scarpa fernon che ho rivenduto a 130kk con questi 130kk ho fatto praticamente la mia spada che era r7 l'ho fatta più 8 poi mi avanzava una pergamena e ho detto non ho voglia di rimetterla allo sbazzar quindi l'ho usata mi è uscito il più nuovo alla prima non me l'aspettavo sinceramente ragazzi perché io sono veramente veramente sfigata però ogni tanto il gioco si ricorda anche di me e poi ho comprato le ali lampo che ho messo qui sul bk perché sono veramente veramente fantastica con i drop a terra se siete abbastanza veloci riuscite comunque a rifarvi tutti i soldi che spendete per fare fernon perché comunque se ne vanno parecchi soldi in amplificatore tarocco il tarocco è consigliabile morte sole o diavolo e inoltre le full le full se ne vanno se ne vanno veramente tantissime full durante il ride ci saranno delle leve da fare che sono delle spade che cadono dal cielo se vi cadono in testa fanno danno e stunnano le leve possono essere fatte solo se siete invisibili quindi o usate l'invisibilità appunto del dell'esploratore oppure potete usare l'invisibilità dell'ongbi e del cheongbi dai spiegate stavo spiegando le leve allora arrivano delle leve allora praticamente oi 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 comunque ragazzi questo è il mio team non vi dico neanche come si chiama perché è osceno il nome si chiama penelicottero oi 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 ringraziamo bestia per questo fantastico nome ma chi l'ha scelto bestia allora praticamente la leva genitore 1 e la leva genitore 2 cosa fanno? io sono Giorgia quando stanno insieme fanno un bambino ma perché scusa ma perché siete così malfidenti nei nostri campionati? perché siete un team di me allora dai ci sono due leve quella nera e quella bianca ci sono due nere e tre nere allora quella nera stunna la fernon quella bianca stunna i personaggi che cazzo dici? Alexa no non sono le aspettami troppo tardi sono partito ma non c'è ne dai sei imbarazzante no addio brava è così che si fanno i fernon ragazzi seguiti la live di Romina intanto le taglio le parti in cui muoio male ah bello metto solamente le parti in cui muori tu quando escono questi mob di cacca perché sono mob di cacca mob di cacca dovete mettere le trappole di questi esploratori inutili no no dovete andare allo specchio e dire ragazzi toglietemi mob e spawn a Romina una cosa importantissima sono le rest 100% fuoco e 100% acqua allora io ci arrivo a ma la pena però ci arrivo io non ci arrivo spiegano in portoghese eh tu devi scrivere per non cagare la sua cabeça perché se cagare la cabeça tu perdesce un pochino di vita e puoi dire che tu fai sconato tu devi andare in visibile e fare la leva allora vedete quando riflette io posso fargli spaccatura perché non mi rompe le balle vabbè scusate l'hanno trombato no ma cosa ma non ci posso credere ma perché li voglio io datemeli ma mi fate troppare anche a me che palle che siete però allora lo scopo dei fermi è non far troppare la Romina eh ho notato brutte merda ambulanti oi fallo bene dai oi wow spacchettiamo 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 io prima di spacchettare vado a prendere il mio possum della fortuna un titolo ragazzi già inizio così già inizio bene ma io neanche uno ne ho trovato allora andiamo a prendere uno possum che in questo momento si farà da sculetto quindi si chiama io sono Rita Arbello un titolo da un R7 ok ragazzi bella sessione di Fernand grazie ragazzi siete pronti siete pronti per vedere la sculata leggendaria vai speriamo vai venti Rai finito ma oh il titolo finalmente anch'io l'ho trovato 2% di difesa di attacchi a distanza ah non ho aperto lo screen del calico allora io cosa ho detto più medangelo 50 e stai che sto salutando mi dici le parolacce sotto che testa di minchia ho parlato e quindi niente ragazzi anche in questa sessione di Fernand non abbiamo trovato praticamente un emerito piffero e l'ovvosa vi saluta e ci vediamo al prossimo video ciao ciao chi sei Goku non lo sa però presto lo scoprirà scatenando il tuo passato senza mani senza mani ho no lo sa